Non così male sono state le vendite da parte dei negozianti e commercianti faintini durante queste particolari festività natalizie. Non mancano ambiti commerciali comunque fortemente colpiti da DPCM e regole adottate nelle settimane scorse. Tanto è che l'appello alle istituzioni, oggi, è quello di essere più chiari e lineari con le decisioni stesse. Abbiamo bisogno di chiarezza per quanto possibile in un periodo così complicato. Le preoccupazioni del mese, relativa al mese di dicembre, erano davvero tante perché noi commercianti non avevamo davvero idea di come si sarebbero svolte le vendite in questo buy line appunto di DPCM davvero difficile da interpretare. Devo dire, e questo è un dato aggregato, non potrebbe essere altro, che non sono andate male. Diciamo che sono i numeri sulla falsariga dell'anno precedente. È chiaro che ci sono dei distinguo perché comunque ci sono delle categorie che purtroppo, vedi abbigliamento, sono penalizzate perché hanno aperture e chiusure un po' scacchiera, sempre un po' difficili da interpretare. Per non parlare poi dei pubblici esercizi, della ristorazione e quant'altro, per non parlare ovviamente di quelle realtà che sono chiuse da mesi. L'auspicio è evidente, è uno, che la campagna vaccinale parta alla grande, che sia accolta in maniera molto positiva da tutti noi perché ne abbiamo tutti bisogno.